Le ferite dei cattivi rapporti con i genitori o con un familiare da parte dei figli o le ferite di quando si è cattivi genitori, di quando non si è fatto i genitori. È la ferita che stiamo toccando in queste nostre puntate per poi portarci a toccarla per guarirla. Attraverso questo percorso che abbiamo ripreso subito dopo l'estate e subito dopo il percorso, l'itinerario che abbiamo vissuto durante la novena di preparazione alla festa liturgica di San Pio da Pietrelcina. Come faccio a vivere con questo scrupolo? Mi diceva meglio, mi scriveva una donna che ha perso da poco i genitori. Come faccio a vivere con questo scrupolo di non aver assistito mia madre nel momento della sua sofferenza, nel momento della sua malattia e di averla abbandonata nelle mani degli altri? È un interrogativo forte, è un interrogativo anche tremendo perché è un interrogativo che ti porta a entrare dentro te stesso. E questa donna, come tanti, è schiava di questi scrupoli, di questi sensi di colpa. Non assistere i propri genitori è certamente un peccato. E allora liberiamoci da sensi di colpa che sono il frutto del nostro egoismo, già come abbiamo detto altre volte, ma guardiamo al peccato lasciandoci illuminare dalla misericordia del Padre e di Dio. La prima cosa è confessare questo peccato. Confessarlo al sacerdote, parlarne con il direttore spirituale quando c'è, parlare con una persona di fiducia e poi lasciarsi lenire questa ferita dalla preghiera nei confronti dei propri o del proprio genitore ormai defunto e sempre in suffraggio di queste persone compiere atti di carità. Per esempio andare ad assistere una persona che è sola offrendo quello che si fa proprio pensando al peccato che prima è stato commesso, cioè non assistere il proprio genitore. Ciò che ci fa entrare e toccare il cuore dalla tenerezza del Signore è l'umiltà. Se non abbiamo questa capacità di essere umili, di riconoscere il peccato, di riconoscere la luce della misericordia, nemmeno ci sentiremo poi abbracciati dal perdono di Dio, da cui nasce il nostro pentimento, da cui nasce la nostra ammissione, la nostra vergogna del peccato, come ci diceva il Catechismo di Pio X, ma come ci ha ripetuto più volte Papa Francesco. E allora coraggio, perché la misericordia di Dio è sempre più grande delle nostre colpe. Ma continuiamo domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti! Chi è venuto? Padre Antonio! Che ha detto che tornava? Tornava? Io guardo te, tu guardi me, abbiamo fatto un curato d'Ars. Ma intanto lui sta qua. Il convente più basso del... Il convente più basso del... Autore dei sovrapposti